A causa delle temperature elevate che in queste ultime ore stanno toccando anche i 37-38 gradi centigradi a Pescara aumentano gli accessi al pronto soccorso e ricoveri nel reparto di geriatria dell'ospedale civile. Dopo i 400 accessi da bollino rosso del 23 luglio scorso, a causa del caldo, la situazione sembra tranquilla anche se l'emergenza resta. Per oggi e domani infatti il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore attesta ancora una volta il capoluogo adriatico tra le città più torride d'Italia. Il direttore del pronto soccorso Alberto Albani ricorda che i picchi di accessi sono dovuti sia a patologie legate alle alte temperature con disidratazione, febbri, congestione o colpi di calore che a traumi determinati da incidenti stradali. I più colpiti sono gli anziani e le fasce deboli della popolazione e si registra pertanto un aumento degli accessi al pronto soccorso e di ricoveri nel reparto di geriatria diretto dal dottor Emilio Simeone che ascoltiamo. Ovviamente noi che normalmente siamo già abbastanza penalizzati non tanto per la carenza di posti ma quanto per il numero di pazienti che comunque vengono ricoverati in geriatria perché le persone anziane sono quelle che più di tutti fanno ricorso al sistema sanitario nazionale dai ricoveri. In momenti in cui c'è un caldo eccessivo, un caldo estremo sicuramente si ricorre molto di più agli accessi in pronto soccorso e quindi in reparto. I pazienti anziani sono più colpiti anche perché hanno più patologie, più patologie, più farmaci. Molti farmaci si salvano la vita in un periodo di calore eccessivo tipo i diuretici, faccio un esempio piuttosto banale, ovviamente provocando già di per sé una disidratazione che aumenta con la perspirazio provocata dal caldo eccessivo, quindi un'eccessiva sudorazione ma anche una ridotta capacità di termoregolare il corpo da parte del paziente anziano sicuramente soffrono molto di più. Quindi i consigli sono sempre gli stessi, non esporsi nei momenti più caldi all'esterno delle case, rimanere più o meno in casa con le finestre socchiuse e le persiane chiuse in modo da ridurre l'irradiazione solare nelle case, mantenere una buona ventilazione all'interno delle case. Non direi di fare ricorso inopinatamente all'aria condizionata perché di per sé anche l'aria condizionata può dare i suoi problemi soprattutto negli anziani. Bere molti liquidi, acqua, anche altro tipo di bevande tipo teca, momilla, astenersi dalle bevande alcoliche, alimentarsi tranquillamente con cibi piuttosto leggeri invece che cibi pesanti di difficile digestione. Frutta in abbondanza, in questo periodo abbiamo i cocomeri che oltre ad apportare nutrizione apportano anche liquidi. Tenere in buon conto anche l'utilizzo dei farmaci, non eliminarli ma farli revisionare dal proprio medico curante e tener conto di eliminare o accantonare o quantomeno di ridurre quei farmaci che possono creare ipotensione, che possono creare problematica di perdita di liquidi, farmaci che possono alterare l'equilibrio psichico, quindi vari sedativi, vari neurolettici ed altro ecco, ed altro ecco.